La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti S.R.L. con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio Maiori 83B è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. E' stato presentato nei giorni scorsi presso il Centro per l'Artigianato Digitale di Cava dei Tirreni il corso certificato dalla Regione Campania, designer esperto in fabbricazione digitale, a cura di MedArc. L'interessante percorso formativo prenderà il via nelle prossime settimane e durerà sette mesi al termine dei quali sarà rilasciata la qualifica di designer esperto in fabbricazione digitale certificata dalle regioni e valida su tutto il territorio nazionale. E' un corso accreditato dalla Regione Campania, il primo in Italia che cerca di creare una figura di designer esperti di nuove tecnologie. esperti di nuove tecnologie significa esperti nell'utilizzo e nella conoscenza di queste macchine per realizzare prodotti sempre innovativi e sostenibili. Oggi si è conclusa la prima fase di questa presentazione, si è concluso il primo anno dei lavori di questi ragazzi con la presentazione delle loro tesi e apriamo sostanzialmente la descrizione della nuova analità. C'è ancora possibilità di iscriversi, è un corso, voglio ricordare, primo in Italia che lega sostanzialmente le istanze del New European Bauhaus, quindi della sostenibilità e dell'innovazione per il design e per l'architettura alle tradizioni dell'artigianato locale e dei nostri territori. Quindi primo esempio in Italia di scuola dedicata a questa ibridazione e a questo nuovo tipo di figura del designer e siamo felici di lanciarla a Cava dei Tirreni. La scuola di specializzazione è aperta a studenti, laureati, artigiani, ricercatori e professionisti che hanno intenzione di accrescere e perfezionare le proprie competenze nel campo della progettazione e del design. È un corso che ho iniziato quasi per caso, nel senso che io stavo cercando un Fab Lab per portare avanti i miei progetti personali e mi sono imbattuto nel corso di fabbricazione digitale e design computazionale proprio al CAD e ho detto ok, ho colto la palla al barzo e mi sono iscritto. Che devo dire, quello che ho trovato è stato molto di più di quello che mi aspettavo, dalle competenze di design computazionale che devo dire che oggi penso siano fondamentali nel mondo del design e nel designer del futuro e soprattutto tutte le competenze di fabbricazione, di fabbricazione digitale la possibilità di poter mettere mano alle macchine. Io personalmente vengo da un mondo universitario in cui non mi è mai stata data la possibilità di provare e di imparare sul campo e secondo me una delle cose più belle è stata proprio questa, quella di poter sperimentare, poter sbagliare, imparare dei miei errori e probabilmente questo è quello che mi ha dato il più alla fine del percorso. Consiglio a chiunque intraprenda ora la carriera di designer di intraprendere un corso del genere perché ti dà tanto e ripeto le competenze che dà secondo me sono essenziali per il lavoro del designer del futuro.